Diretta Uruguay Corea del Sud ore 14, probabili dove vederle in TV in streaming. All'RYYN Uruguay e Corea del Sud fanno il loro debutto al Mondiale, entrambe sono state inserite nel gruppo H. Assieme a Portogallo e Gano che si sfideranno alle ore 17. Sono ben 7 i precedenti tra le due nazionali, due volte ai mondiali i 5 amichevoli. L'Uruguay ha vinto in 6 occasioni, nessun pareggio e una vittoria della Corea del Sud. Dove è a che ora vedere Uruguay Corea del Sud, orari e canali l'incontro tra Uruguay e Corea del Sud. Valido per il primo turno della fase a gironi del gruppo H dei Mondiali di Qatar 2022. È in programma allo stadio Education City di Al-Raiyan alle ore 14. Sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 2 in chiaro. È disponibile su Rai Plane Streaming. Segui la diretta di Uruguay Corea del Sud sul nostro sito probabili formazioni Uruguay Corea del Sud Uruguay, 4, 4, 2, Rocket, Caceres. Godin, Jimenez, Olivera, Vecino, Bentancur, Valverde, De Arrascaeta, Núñez. Suveres, Citi, Alonso a disposizione, Muslera, Sosa, De La Cruz, Pellistri, Varela. Torreira, Vina, Gomez, Coz, Torres, Cavani, Canobbio, Ugarte, Rodriguez Indisponibili, Arauos Qualificati, Diffidati, Corea del Sud, 4, 1, 4, 1, Seungju, Moonwan. Kim, Jungwon, Yinsu, Wooyoung, Kangwon, Yeezung, Imbeom, Essesson, Wiyu. Citi, Bento a disposizione, Sonbun Keewin. Sonbun Keewin, Francia, Quarto Uomo, Covax, Romania, Var. Brizard, Francia, Associazione Var, Millor, Francia.